Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. La provincia di Chieti ha pubblicato il bando per la pista ciclopedonale di 40 km lungo la costa dei Trabocchi. Un bando da oltre 10 milioni di euro. I comuni interessati sono Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni, Fossacesi, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto. Il bando scadrà il 29 ottobre prossimo. I dettagli nel servizio. Dovrà essere aggiudicato entro il 31 dicembre prossimo, pena la perdita dei finanziamenti, l'appalto per realizzare la via verde della costa dei Trabocchi, intervento che ha una base d'asta di 10 milioni e 311 mila euro. La provincia di Chieti, stazione appaltante dell'Opera, ha pubblicato sul sito istituzionale il bando di gara a procedura aperta. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale con delega al cicloturismo Dino Pepe con il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo. L'intervento, finanziato con i fondi PARFAS, si inserisce nel progetto regionale Bike to Coast, nel quale la pista ciclopedonale della via verde rappresenta l'investimento più cospicuo, a cui sono destinati complessivamente oltre 15 milioni di euro, di cui 2.945.000 sono stati già utilizzati per le espropriazioni. Ma la via verde rappresenta anche il tratto più suggestivo, con i suoi 40 chilometri, e le nove gallerie attraversate di notevole impatto paesaggistico ambientale lungo l'ex tracciato ferroviario che attraversa la costa dei Trabocchi, nei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casal Bordino e Vasto. Il bando scadrà il 29 ottobre a mezzogiorno. L'apertura delle buste delle offerte si terrà il 5 novembre. Il termine per la redazione del progetto esecutivo è di 40 giorni dalla stipula del contratto, mentre il termine per l'esecuzione dei lavori è di 845 giorni dalla data di consegna dei lavori. Per l'assessore Pepe lo sviluppo del cicloturismo in Abruzzo è una sfida che vede in campo l'impegno di tutte le amministrazioni locali in sinergia con la Regione. È un progetto complessivo che riguarda tutto il litorale abruzzese, 17 comuni e 3 province, 131 chilometri di costa, è un progetto assolutamente strategico per la nostra Regione. Oggi qui a Chiedi presentiamo la parte più importante, la parte più suggestiva, 40 chilometri, la costa dei Trabocchi, sicuramente rappresenta un passo importante. Entro il 31-12 tutti i comuni e tutte e 3 le province dovranno arrivare all'appalto delle opere, perché riguardano fondi fasso, oltre 40 milioni di euro, che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione dei comuni e delle province per realizzare quest'opera strategica per la nostra Regione. L'obiettivo finale, ha dichiarato il Presidente della provincia Pupillo, è vedere realizzata la via verde della costa dei Trabocchi entro il 2017. Oggi è una giornata storica per la provincia di Chiedi e per la Regione Abruzzo. È stato pubblicato il bando per la realizzazione della via verde della costa dei Trabocchi, quindi un progetto iniziato diversi anni fa purtroppo, che ha avuto delle lungaggini amministrative, ma che finalmente viene alla luce, con un bando che scadrà il 29 di ottobre. 40 chilometri di costa, che saranno il brand turistico della nostra Abruzzo e della nostra provincia, sul sedime ferroviario da Ortona a Vasto. Io ringrazio la struttura tecnica, l'ingegnere Valerio Urzini e Guido Dalleva, che hanno lavorato intensamente in questi mesi, che hanno pubblicato il bando, che il 29 apriranno le buste perché prima del 31 di dicembre bisogna assegnare i lavori. Questo è un fondo par-fas, quindi deve essere assolutamente, entro quest'anno, consegnato il lavoro alla ditta che vincerà l'appalto. Ci vorranno 845 giorni di lavori, possibilmente anche di meno, e penso che alla fine del 2017 la provincia di Chieda e la regione Abruzzo avranno questa meravigliosa via verde che sarà inserita nel Bike to Cost, che è il progetto regionale che trasformerà l'Abruzzo veramente in una lunga pista ciclopedonabile, soprattutto sulla costa, che farà la differenza per i nostri cittadini e quindi ci aprirà all'Europa per un servizio importante che metteremo a disposizione dei turisti. Un miliardo di euro di contributi concessi per interventi di riparazione e ricostruzione di abitazioni private è il bilancio conseguito dai 56 comuni del cratere del terremoto aquilano del 2009. Ad oggi la ricostruzione privata ha raggiunto questo avanzamento in termini di importi del 25% rispetto all'importo totale stimato di 4 miliardi e 140 milioni di euro. In sostanza il processo di ricostruzione privata ha completato un quarto del suo percorso finanziato. Il 90% delle pratiche riguardanti le periferie dei comuni del cratere danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 sono state evase, mentre per quello che riguarda gli incartamenti relativi ad edifici ricadenti nei centri storici il percorso è iniziato e la percentuale si attesta intorno al 10%. Questo lo stato dell'arte dei processi di istruttoria relativi però alla sola ricostruzione privata fotografato dalla governance dell'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere. La macchina amministrativa però non potrebbe andare avanti senza il supporto di un costante flusso di risorse finanziarie che possano consentire di trasformare l'approvazione della pratica nell'effettiva apertura del cantiere. Da questo punto di vista, facendo un quadro generale della situazione, fino ad oggi l'ufficio speciale di Fossa sempre parlando della sola ricostruzione privata, ha potuto beneficiare di erogazioni pari ad un miliardo di euro. Considerando che la stima economica totale per gli interventi di riedificazione è stata quantificata in 4 miliardi dal punto di vista della copertura finanziaria si è giunti quindi ad un quarto del cammino. Anche il passaggio dall'istruttoria alla concessione dei contributi fa segnare indicatori positivi. Nell'ultimo triennio, infatti, la capacità mensile di ammissione è passata dai 12 milioni del 2013 ai 19 del 2014 subendo infine una ulteriore decisa impennata ad inizio di quest'anno raggiungendo il picco di 36 milioni di euro. Se il trend sarà consolidato e confermato, le stime dell'ufficio speciale per fine anno prevedono un raggiungimento di impegno di spesa totale pari a 440 milioni di euro. Nessun passo in avanti nel dibattito sul futuro del trasporto pubblico locale abruzzese dopo la nascita dell'azienda unica tua. Così per domani è stato proclamato uno sciopero di 24 ore da Filt CGL e UGL Trasporti. Si svolgerà domani anche lo sciopero di 4 ore proclamato da Fit CISL, Wilt Will e Faisa CISL. Per i sindacati, l'azienda unica tua conferma i tagli di 10 milioni di euro che potrebbero anche arrivare a 12 milioni. Nessun passo in avanti nel dibattito sul futuro del trasporto pubblico locale abruzzese dopo la nascita dell'azienda unica tua. Per questo motivo i sindacati Filt CGL e UGL Trasporti hanno proclamato per domani 24 ore di sciopero dei lavoratori del settore dopo quello di 4 ore dello scorso 29 maggio. Le ragioni della protesta sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Pescara dal segretario regionale Filt CGL Franco Rolandi e quello dell'UGL Trasporti Giuseppe Lupo che sono tornati a denunciare la drastica riduzione delle risorse regionali destinate al settore. Si confermano i tagli di 10 milioni di euro così come si evince dal bilancio di previsione della regione per il 2015. Tagli che, secondo i rappresentanti sindacali, potrebbero arrivare a 12 milioni. Tra le motivazioni dello sciopero ci sono anche l'eliminazione di servizi essenziali con gravi ricadute per le aree interne, la mancata realizzazione del biglietto unico regionale e del sistema tariffario intermodale, la volontà regionale di procedere verso una graduale privatizzazione del settore e difficoltà nella realizzazione dell'azienda unica regionale. I sindacati chiedono di evitare le disparità di trattamento che subiscono i cittadini di zone diverse, un cambio di rotta rispetto al modo in cui vengono utilizzate le risorse nel settore e pretendono un cronoprogramma degli interventi e non semplici impegni a parole. Filt CGL e UGL Trasporti contestano inoltre le operazioni al fotofinish fatte da Sangritana, come le 15 assunzioni senza concorso, come specifica Franco Rolandi. Assunzioni fatte attraverso il lavoro somministrato e assunzioni che, secondo i nostri approfondimenti, sono assolutamente irregolari, perché non rispettano il contratto collettivo e questo fatto, il fatto che non rispetti il contratto collettivo, determinerà dei contenziosi che avranno delle ripercussioni pesantissime sulla collettività abruzzese. Noi abbiamo calcolato che ci sarà un aggravio di costi per l'azienda unica di almeno 750 mila euro, perché queste 15 assunzioni o dovranno essere trasformate necessariamente a tempo indeterminato, anche se non dovessero servire, o in alternativa darà origine a dei contenziosi e quindi l'azienda dovrà corrispondere, diciamo, una sanzione, dovrà pagare una sanzione molto alta, anche fino a 12 mensilità, nei confronti di ogni lavoratore che è stato assunto con un contratto di fatto illegittimo. Domani nelle fasce orarie di garanzia sarà effettuato il regolare servizio ordinario, due le manifestazioni organizzate nell'ambito della protesta, un presidio davanti alla sede della regione a Pescara e un incontro dibattito a Teramo. Sempre domani si svolgerà anche lo sciopero di quattro ore, proclamato da Fit Cisle, Wheel to Wheel e Faesa Cisal. La politica regionale rinviato il salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese ISA in commissione bilancio. La questione relativa al piano di salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese assume sempre più i contorni della più famosa tra le pièce di Samuel Beckett, aspettando Godot. Nel lavoro teatrale i due protagonisti attendevano alla fine vanamente l'arrivo del personaggio citato nel titolo. Nel frattempo riflettendo e conversando, talvolta anche in maniera piuttosto animata, sulla loro situazione esistenziale. Una condizione di attesa spasmodica, insomma, la stessa che sta caratterizzando i lavoratori nella pianta organica della sinfonica, i quali, senza stipendio da cinque mesi, dopo aver calcato le scene la scorsa settimana per l'ultimo concerto, sono stati poi posti il 3 agosto in situazione di sosta stagionale a tempo indeterminato dalla governance dell'ente culturale. Lo stop all'operatività è stato causato, di fatto, dall'esaurirsi dei fondi in cassa, tra i quali, però, mancano gli 800 mila euro che la regione avrebbe dovuto erogare alla sinfonica. Da allora, per cercare di arrivare ad un punto di mediazione, la stessa macchina amministrativa regionale ha cominciato a mettersi in moto. Primariamente, martedì 4 agosto, vi era infatti stata una convocazione ad hoc della conferenza regionale dei capigruppo. Un mero passaggio tecnico, ma che avrebbe potuto assumere valenza fondamentale in quanto la relazione, stilata in chiusura dei lavori e dopo aver audito una rappresentanza dei lavoratori della sinfonica, avrebbe dovuto essere uno degli strumenti di valutazione decisoria in sede di Commissione Bilancio, l'organismo che avrebbe dovuto decidere sul rifinanziamento, o meglio, finanziamento ex post dell'ISA. Molti condizionali che sono rimasti, però, tali. La Commissione Bilancio, infatti, si è riunita, ha cominciato la discussione, ma poi ha deciso di aggiornare la seduta a martedì prossimo. Poco male, penseranno gli ottimisti, da parte delle istituzioni ci sarà più tempo per arrivare ad una scelta condivisa e ponderata. In realtà, il rinvio nasconde l'insidia in piena luce. Già, perché martedì 11 agosto sarà prevista anche la riunione del Consiglio regionale e considerando la mole di ritardi che, nelle ultime settimane, ha caratterizzato le giornate in cui gli organismi si sono riuniti in maniera congiunta, c'è da aspettarsi che neanche la prossima settimana il Godot Regione Abruzzo si presenterà al cospetto della sinfonica, recando in mano l'assegno da 800.000 euro, che significherebbe salvataggio dell'ente culturale e dei suoi lavoratori. La cronaca trasferita dall'ospedale di Pescara al Sant'Eugenio di Roma una 24enne di origini albanesi al quarto mese di gravidanza che ieri sera si è ostionata mentre coceva gli arrosticini con una fornacella insieme ai familiari a Pianella, nel Pescarese. La donna ha riportato ostioni di secondo e terzo grado sul 35% del corpo. Secondo la ricostruzione dei fatti, la 24enne, per facilitare l'accensione della brace, avrebbe utilizzato dell'alcol etilico, ma si sarebbe generato un violento ritorno di fiamma che l'avrebbe investita su tutto il corpo. A Bucchianico è stato riaperto al traffico il tratto di Statale 81, chiuso due giorni fa a causa del ribaltamento di un trasporto eccezionale. Per rimuovere il serbatoio in acciaio è stato necessario l'intervento di una grande gru. È stata riaperta al traffico la strada Statale 81 Piceno a Prutina, chiusa due giorni fa in entrambe le direzioni, località Bucchianico, al chilometro 150, a causa di un mezzo pesante che ha subito il ribaltamento del rimorchio durante un trasporto eccezionale. Si è trattato di un grosso carrello che trasportava un gigantesco serbatoio della società Walter Tosto. Ieri alle 21.30 si sono concluse le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e anche la pulizia del piano viabile. La circolazione ha così ripreso la normalità. Le operazioni di sollevamento del carico rovesciato, che date le particolari caratteristiche di dimensioni e peso, hanno reso necessario l'intervento di mezzi specializzati e oltre un giorno di lavoro senza sosta. Fortunatamente lo spettacolare incidente non ha causato feriti, mentre per far arrivare la grande gru che ha sollevato il carico è stato necessario realizzare una piccola bretella che ha tagliato la curva a gomito dove si è ribaltato il carico eccezionale. Da oggi la situazione è comunque tornata alla piena normalità. È un 17enne il presunto responsabile della rapina ad una donna consumata nel pomeriggio di ieri nei pressi della Golena Sud in zona Pescaravecchia. Dopo una serie di perquisizioni eseguite a carico di vari ragazzi, i carabinieri del capologo adriatico si sono portati a casa del minore che dalla descrizione fornita corrispondeva a quello visto dalla vittima. Nella collottazione eseguita la rapina la donna era rimasta ferita. Nella borsa sottratta c'erano effetti personali e alcune decine di euro. Durante la perquisizione sono stati trovati vestiti che gli investigatori ritengono siano stati usati per la rapina, nascosti in un armaio tra i maglioni invernali e ancora in trisi di sudore. Grazie alle prime dichiarazioni raccolte e a quanto successivamente accertato, gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno consentito di procedere all'arresto del baby rapinatore, ora rinchiuso nel carcere minorile dell'Aquila. Ambasciatori d'Abruzzo nel mondo, la cerimonia Civitella del Tronto. Vediamo. Si è svolto nel magnifico scenario della fortezza di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, la cerimonia di premiazione di cinque nuovi ambasciatori d'Abruzzo nel mondo. L'evento istituzionale è stato promosso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in occasione della Giornata degli Abruzzesi nel mondo, istituita con legge regionale numero 4 dell'11 febbraio 2011. I nuovi ambasciatori sono Anna Maria Di Sciullo, nata a Roma da genitori di Fallo, professoressa all'Università del Quebec, Eligio Paris, nato a Celano nel 1941, imprenditore in cana e fondatore del Celano Caniadana Club. Osman Filippo Gialloreto, di Pescara, cardiologo di fama internazionale. Francesco Liberati, di Scurcola Marsicana, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma. E Sergio Paolo Sciullo della Rocca, di Sulmona, classe 1957, ex comandante del IV Corpo d'Armata Alpino dell'Esercito. Nel corso della cerimonia è stato conferito un riconoscimento speciale per la promozione dell'immagine dell'Abruzzo nel mondo al cantante Gianluca Ginobble e allo chef Nico Romito. Sentiamo il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti. La fortezza di Civitella è una perla dell'Abruzzo, dell'Italia. Credo che sia una delle fortezze spagnole meglio conservate al mondo, meta di tantissimi turisti, credo sia un manifesto dell'Abruzzo. Poi Civitella ha tanti altri valori paesaggistici, culturali e no gastronomici. Quindi la location è fantastica. Il discorso degli ambasciatori di Abruzzo del mondo è una buona iniziativa che avanti da qualche anno, che può essere potenziata. Per adesso di solito si conclude, diciamo, con le premiazioni e le onorificenze. Bisogna fare un passo in avanti in più, perché queste persone non devono soltanto mettere in bacheca dei prestigiosi riconoscimenti che hanno meritato nella loro vita, ma essere un po' davvero gli ambasciatori di Abruzzo del mondo, quindi far conoscere sempre di più la nostra regione, ai turisti, agli investitori. E lì dobbiamo saper sfruttare meglio. La pagina del calcio sarà a Pescara ad ospitare il prossimo 25 agosto la cerimonia per la presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie B. L'ha annunciato il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abo, dei sorteggi delle giornate di campionato saranno eseguiti presso l'Ex Aurum, la fabbrica delle idee nella pineta d'Annunziana. Lo scorso anno il sorteggio si era svolto all'Erici, nello spezzino, ed è la prima volta che l'evento coinvolgerà una città dell'Italia centrale. La Serie B prenderà il via il 5 settembre con 22 squadre. A Lanciano la giunta regionale ha comunicato all'amministrazione comunale il finanziamento di 300 mila euro per il nuovo settore distinti. L'assessore allo sport Davide Caporale assicura la Virtus giocherà il campionato al Biondi e a fine ottobre termineranno i lavori. Virtus al lavoro in vista del primo impegno ufficiale domenica ore 20.30 contro la Juve Stabia. L'obiettivo sarà di andare avanti in team cup ma soprattutto di cominciare a fare sul serio nei meccanismi di gioco valutando anche l'organico a disposizione di Mister Daversa, riflettori puntati sui nuovi arrivi. Si aspetta il ritorno di Alberto Almici via Atalanta, idem per Vergara del Milan per completare così l'intero pacchetto difensivo per quanto riguarda l'attaccante Iemmello su cui si erano concentrati i rumors di un suo ripensamento al rosso-nero Frentano per tornare a Foggia il sito ufficiale Virtus e Perentorio riportando alcune dichiarazioni dell'attaccante. Ho scelto Lanciano, ho scelto Labì, dunque non c'è nessun caso. Per il resto la tifoseria pensa anche allo Stadio Biondi che dovrà essere ampliato per rispettare le regole imposte dalla Lega. La deloga per utilizzare lo stadio a capienza ridotta scadrà a fine ottobre. Dunque è iniziato il vero conto alla rovescia. Assessore allo sport Davide Caporale, lunedì è arrivato il documento ufficiale di approvazione della giunta regionale di questi 300 mila euro per lo Stadio Biondi. Adesso comincia tutto l'iter. Innanzitutto devo ringraziare la giunta regionale, il presidente Luciano D'Alfonso per aver mantenuto fede a questi 300 mila euro e soprattutto l'assessore Silvio Paolucci. Adesso la Virtus Lanciano dovrà incaricare un progettista per quanto riguarda la progettazione dei nuovi distinti e per la progettazione definitiva. Nel momento in cui si avrà la progettazione definitiva comincerà tutto l'iter delle autorizzazioni da parte della regione e poi da parte anche dei vigili del fuoco a livello provinciale. Nel momento in cui ci saranno tutte le autorizzazioni si eseguirà con il progetto definitivo ed esecutivo. Da quella data ci sarà il bando per quanto riguarda i lavori e crediamo di poter dire che dal giorno in cui c'è il bando e la realizzazione dell'opera trascorreranno circa 60 giorni. Bisognerà adottare provvedimenti d'urgenza perché comincia il conto alla rovescia siamo quasi a metà agosto e entro fine ottobre il settore dovrà essere completato. Credo che i lavori in altri stadi, lo abbiamo già detto, come Friuli ma anche altri si sono svolte partite durante lo svolgimento dei lavori. Dobbiamo dire anche che il Guido Biondi anche con questo ampliamento dei distinti comunque giocherà in deroga perché in serie B tutti gli stadi devono avere la capienza di 10.000 spettatori. È normale che con questi distinti nuovi sappiamo che arriviamo a circa 5.800-5.900. Infine per quanto riguarda la pagina del calcio, secondo turno di Coppa Italia l'arbitro di Pescara Sud Tirol sarà Valerio Marini di Roma. La partita è in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Adriatico. Il Tg Max termina qui, vi ricordo che Tg Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it Ci trovate anche al nostro canale YouTube e ai profili ufficiali dei social network Twitter, Facebook e Google+. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie per l'attenzione.